L'addome acuto. L'addome acuto è un dolore che sorge a livello addominale. Le due cause possono essere infiammatorie, non infiammatorie, perforazioni. E il dolore come può essere? Di solito è improvviso, però andiamo ad analizzare quello che accade. Allora, tra i sintomi ho messo il dolore. Il dolore che può essere improvviso, nel caso in cui abbiamo un'ulcera gastro-todenale, graduale, nel caso in cui abbiamo una colecistite o un'appendicite, continuo nelle infiammazioni e un dolore intermittente come lo spasmo di un viscere cavo. La diarrea è un altro sintomo molto importante, il vomito, l'occlusione, perché possiamo avere l'ilio paralitico e l'ilio meccanico. L'ilio meccanico è un ilio che si manifesta perché c'è un corpo fisico che ostacola, ad esempio, i meccanismi di peristalsi, oppure, per esempio, può ostacolare la colecistica, e quindi può creare un ostacolo fisico o un qualcosa di viscerale, possiamo così dire. È un po' generico, però, per rendere l'idea. L'ilio paralirico, invece, è l'alterazione funzionale della peristalsi, è diversa. Mentre l'ilio meccanico, per esempio, come ho detto, può essere dovuta ad esempio a una stenosi in seguito al morbo di Crohn, al calcolo, alla sindrome, per esempio, di Lerish, dove i calcoli che sono originati dalla colecisti vanno a creare, tramite dei fenomeni di fistole, delle fistole bilidigestive, che fanno cadere questo calcolo dalla colecisti e arrivano addirittura fino alla valvola iliocecale, dando un senso di occlusione. Inoltre, per esempio, nell'ilio meccanico troveremo una peristalsi definita metallica all'auscultazione, nell'ilio paralirico, invece, l'assenza di peristalsi all'auscultazione. La febbre e le urine. Le urine scure, spesso, possono essere correlate a un nitroostruttivo, perché c'è l'aumento della bilirubina di tipo diretta, filtrata soprattutto dai reni, e quindi tutto il pigmento, possiamo dire, avrà preso dai reni, e ci sarà la colorazione delle urine scure e delle feci chiare, oppure ci può essere stranguria. Importante le diagnosi di laboratorio, valutiamo l'ematocrito, l'indice di funzionalità renale, quindi con l'aumento della zotemia o della creatininemia, gli elettroliti, ipocaliemia, gli arrea, iperaldosteronismo secondario, le amelasi e le lipasi, per capire se si tratta di una pancreatite, l'indice di stasi, per capire se si tratta di una colestasi, quindi sarebbero l'interferone gamma, la fosfatasi alcalina e la bilirubina, oppure l'indice di necrosi, come l'LDH, la Cpk per l'infarto intestinale, o le altre le aste per l'epatite acuta, l'indice di flocosi, VES, PCR, interleuchine e via dicendo, ovviamente per ogni malattia, per esempio nella pancreatite, posso anche valutare l'interleuchine 6 e 8, il CAPAP, insomma ci sono tante cose che possiamo valutare, nelle urine invece microematuria, colica e lamento dei globuli bianchi può essere l'indice di un'infezione. Qui ho fatto un po' un esempio di quello che può essere la diagnosi strumentale, ovviamente i quadri di addome acuto vengono meglio analizzati quando si studia semiotica, per la chirurgia io ho fatto giusto una review molto breve, per poi avere anche un'idea delle varie patologie del tratto addominale. Infatti vediamo che dal punto di vista di diagnosi strumentale, spesso posso fare l'RX diretta in ortostatismo o in clinostatismo. In clinostatismo posso verificare la presenza di alterazioni in organi parenchimatosi, calcificazioni o masse, mentre in ortostatismo posso vedere la presenza di gas a livello peridoneale, come la falce d'aria sottodiaframmatica per l'ulcera gastrododenale. L'ATAC con il mezzo di contrasto mi aiuta a vedere delle occlusioni, delle perforazioni o delle emorragie. L'ecografia per la colelitiasi e per l'appendicite. Qui ho fatto un piccolo disegno in cui invece ho elencato i vari situazioni in cui si può manifestare l'attome acude, cosa possiamo pensare se ci troviamo di fronte a determinate situazioni. Se viene intaccato l'ipocondrio di destra o comunque il quadrante superiore destro, si può avere una colica biliare, posso fare il segno di Murphy. Oppure, ovviamente il segno di Murphy lo spiego, l'ho spiegato anche in altre lezioni, però è giusto richiamarlo. Si mette la mano d'uncino, metto sul lato destro del paziente, la mano d'uncino dove? Sotto l'arcato costale, nel punto cistico, che in realtà si trova tra la decima costa, più o meno, e il muscolo retto laterale dell'addome. Il paziente inspira, ispirando il diaframma ovviamente si sposta e si sposta anche verso la parete dell'addome, la colecisti. Se io ho messo la mano d'uncino sulla parete dell'addome, la colecisti del paziente toccherà la mia mano, quindi percepirà il dolore e smetterà di ispirare. Oppure, possiamo avere, sempre nel quadrato di destra, un'ulcera gastrododenale perforata. Passiamo in fossa iliega di destra, che vuol essere quindi un appendicite o un diverticolo di meca. Appendicite nel punto di McBurnie, quindi tra l'ombelico e più o meno la spinaliega anteriore superiore, il segno di Blumberg, metto la mano, affondo proprio le dita, a livello della fosse liega di testa, tiro subito in fuori la mia mano e il paziente percepirà un dolore. Il segno di Rosing invece è come se noi andassimo quasi a strisciare la mano dalla fosse liega di sinistra, creo, se trovate qualche immagine, magari viene intesa meglio, tramite una sorta di pressione con i palmi delle mie, dell'indice, comunque delle dita, vado a creare una pressione sulla fosse liega di sinistra e faccio spostare la mano, mano a mano, più verso il centro e il paziente poi avrà un dolore nella fosse liega di destra. Poi abbiamo nell'ipocondrio di sinistra, gastrite o alterazioni, soprattutto a livello della milza. Nel quadro invece della fosse liega di sinistra, tumore del colon sinistro, diverticolite o colite ischemica. Mentre in questo in nero sarebbe l'addome diffuso che si può manifestare nella pancreatita acuta, sarebbe PAC, scusate, ok, peritonite, perché ovviamente la peritonite riguarda il peritoneo che, come sappiamo, è ben esteso, oppure segni di ostruzione.